per salutare, colgo l'occasione di salutare Alberto Romeo e Pippo Capellano che mi sono comparsi ora davanti e anche a loro il cui è legato un piacevole aneddoto del nostro primo premiato di questa sera che è Gianfranco Simonini. Gianfranco è stato un carabiniere subacqueo prima a Genova nel nucleo dove si formano appunto i carabinieri subacquei, ha fatto l'addestramento a Comsobin e poi ha svolto un importante e apprezzatissimo lavoro nelle sezioni scientifiche, delle sezioni investigazioni scientifiche sempre del comando dei carabinieri. Ha fondato il Centro Studi Indagini Scientifiche, oggi alla guida di un apprezzatissimo diving da parte della comunità subacquea, è autore di due libri molto belli e anche molto settoriali come per esempio Subacquea, Forense e la criminalistica e Angeli Neri dove racconta anche la sua storia, la sua formazione, dove c'è anche un bellissimo ricordo appunto dedicato all'Accademia. Segno che comunque l'Accademia proprio all'interno di ogni subacqueo, chi ha un'attenzione insomma alla fine fa dei passi sempre vicino insomma a questa istituzione. Io ho un ricordo bellissimo delegato a Gianfranco, faccio questo piccolo aneddoto prima di dargli la parola anche per rompere il ghiaccio della presentazione. Quando siamo conosciuti a Ustica dove eravamo insieme, io quell'anno ero premiato insieme a Giorgio Caramanna che vedo anche lui nel video, quindi lo saluto. Era una tarda sera, erano quasi le due di notte, stiamo salendo tutti insieme stretti in una macchina che era quella di Pippo Capellano, piena all'inverosimile e siamo, insomma c'era una ruota a terra e quindi dovevamo tornare a piedi o cambiare la ruota e Gianfranco insomma con il suo piglio anche penso da carabiniera aveva detto ci penso io, smonto io, faccio io, mancava una chiave a croce e c'erano Anna e Settima Cipriani con Anna che dice oh Settì c'era una chiave a croce e fortunatamente nella sua jeep c'era questa chiave a croce e insomma Gianfranco ci salvò quella sera dalla lunga camminata a Ustica da dientro all'albergo. non è per quello che è diventato un tridente perché ci ha salvato da una camminata ma proprio per la sua sterminata conoscenza della parte investigativa che ha prestato insomma opera in tantissime indagini che sono apparse sui giornali, sulla cronaca degli ultimi 30-35 anni. Quindi adesso do la parola a Gianfranco che presenta il suo lavoro e insomma facciamo un facciamo un applauso virtuale a Gianfranco. Buonasera a tutti Leonardo grazie tantissimo per questa bella presentazione. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il direttore dell'Accademia dottor Paolo Ferraro, il presidente dottor Pasquale Longobardi, l'intero consiglio direttivo, tutti gli organizzatori insomma e il dottor Leonardo D'Imporzano che ha sempre instancabilmente risposto alle richieste legate all'organizzazione dell'evento e l'amico Pippo Capellano che mi ha accompagnato e introdotto all'interno dell'Accademia proponendomi per questo prestigioso premio. Dunque ho iniziato l'attività subacqua in Belgio nel 1974 immergendomi nelle acque del canale della manica e nelle cave di marmo dismesse. Rientrato in Italia nel 1978 e volendo accomunare la passione per l'attività subacquea a una professione legata all'attività di polizia giudiziaria a maggio del 1982 sono entrato a far parte dell'arma dei carabinieri. Nel 1983 ho frequentato il corso su mozzatori presso il Consubin per l'acquisizione del brevetto di operatori subacqueo militare. Questo è il giorno della consegna del brevetto nell'ufficio dell'amiraglio comandante del raggruppamento intitolato Ateseo Tesei. Una cosa che ho sempre davvero apprezzato e vissuto a volte con commozione è l'assoluto rispetto che la marina militare rivolge alle forze armate che ospita nei propri reparti. Si è svolto infine per i due mesi conclusivi del corso presso il centro carabinieri subacqueo di Genova il percorso formativo con l'addestramento legato alle attività di polizia giudiziaria in ambito subacqueo per acquisire finalmente la qualifica di carabinieri subacqueo. Con il trascorrere degli anni ho operato all'interno del reparto speciale maturando in quell'attività che rappresentava la vera motivazione per la quale mi sono arruolato. La ricerca, il sopraluogo, il repartamento, l'insieme delle procedure che si concludono con il sequestro di un corpo di reato. Nel corso degli anni non sono mancate... No Franco, interrompo un secondo. Penso che dovevi farci vedere anche delle immagini che non stanno andando. Ora? Adesso sì, adesso sì. Diciamo che l'emozione colpisce anche i carabinieri, no? No, ero convinto che fossero partite perché evidentemente mancava un click. E quindi niente, allora praticamente ritorno un po'... Ecco, allora vado un po' più velocemente. Questo praticamente è l'anno che ho iniziato nel 1974. In Belgio qui si vede il mare cristallino del canale della Manica e le carriere, le cave di marmo, quelle di smessa. Questo è il Consubin dove ho frequentato il corso che dicevo prima. Questo è il periodo del corso. Quindi questo è il momento della consegna del brevetto nell'ufficio dell'ammiraglio comandante del raggruppamento intitolato a Teseo Tesei. Dicevo una cosa che ho sempre vissuto veramente con commozione e notarlo ogni volta che ero al Consubin per un corso di specializzazione e che la Marina Militare rivolge veramente alle forze armate che ospita nei propri reparto in un rispetto veramente premiabile. E così dicevo poi, si è svolto nei due mesi conclusivi del corso presso il centro carabinieri Subacuo di Genova il percorso formativo con l'addestramento legato all'attività di polizia giudiziaria in ambito subacqueo per acquisire finalmente la qualifica di carabinieri Subacuo. Con il trascorrere degli anni ho operato all'interno del reparto speciale maturando in quell'attività che rappresenta la motivazione poi alla fine per la quale mi sono arruolato. La ricerca, il sopralluogo, il repertamento, tutte le procedure che si concludono con il sequestro di un corpo di reato. Nel corso degli anni non sono mancate operazioni per conto dell'esercito degli Stati Uniti d'America impegnato in scenari ostili come l'Iraq, il Kuwait, la Somalia per le operazioni conosciute come Desert Shield e Restorop negli anni compresi tra il 1990 e il 1993. Tutto questo fino a un imprevisto accaduto nel 1996 nel corso di un'indagine del ROS al reparto operativo speciale dei carabinieri di Bologna. Nell'immagine sono l'operatore con la muta blu e esattamente 20 minuti dopo questo scatto fotografico nella fase di recupero dell'auto successiva ho subito gravi lesioni al ginocchio sinistro, evento questo che ha compromesso per un periodo l'idoneità al brevetto OTS militare. Un periodo questo senza dubbio molto negativo ma grazie alle specializzazioni acquisite nel corso degli anni tra le quali quella di fotografo navale indirizzata alla subacqua forense sono riuscito ad entrare a far parte dell'allora istituendo sezioni investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Bari. A turno tutti i militari destinati alle sezioni venivano specializzati presso il raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche con aggiornamenti periodici presso l'istituto superiore di tecniche investigative dell'arma dei carabinieri. In quel periodo mi resi conto di quanto la procedura per l'esaltazione di elementi provatori si potesse adoperare anche in ambiente subacquio magari con qualche piccolo accorgimento. Così mi sono adoperato nella ricerca con esperimenti su elementi come tracce biologiche, elementi balistici, merceologici e rientrato al reparto speciale ho sfruttato quanto appreso dalle tecniche nella procedura operativa tradizionale. In queste immagini sono evidenti le varie fasi che vanno dal rinvenimento ai rilievi descrittivi con numerazione e misurazione fino ai rilievi fotografici per concludere con il repartamento fino all'esaltazione di un'impronta digitale. In questa operazione relativa al repartamento di un'arma bianca gli elementi da esaltare sono di natura dattiloscopica e biologica con tutte le informazioni che può fornire una tracce matica. Di fondamentale importanza è lo sfruttamento delle sorgenti dello spettro elettromagnetico oltre la luce visibile. Qui per portare l'esempio dell'utilizzo dei raggi ultravioletti dopo quattro mesi di permanenza a 30 metri di profondità in un pozzo è stato rinvenuto un telefono cellulare rubato a un magistrato. A occhio nudo non si evidenziava nulla ma il tessuto lipidico che forma le creste papillari di un'impronta digitale esaltata con una sostanza a base di solfuro di molibdeno e un colorante giallo fluorescente illuminato con raggi ultravioletti, qui siamo intorno ai 300 nanometri, hanno chiaramente evidenziato l'impronta di un pozzo pollice. Non meno importante l'utilizzo dei raggi X in questa ricerca di natura storica sul relitto del secondo conflitto mondiale, è stato rinvenuto un oggetto composto dalla massa di ruggine. Il reperto è stato custodito sotto vuoto fino al test ai raggi X con macchine radiogene. Qui siamo con una lunghezza d'onda intorno ai 10 nanometri che ha evidenziato dei lineamenti e grazie all'abilità dell'operatore si intravede un oggetto che in realtà non esiste più ma sono bensì le ombre formate dai raggi X che con un'attenta ricerca ha portato ad identificare una particolarissima arma che ha rivelato una fantastica storia legata a quel periodo. Questo ha permesso, oltre ad identificare con certezza il nome della nave, a scoprire aneddoti storici di grandissimo interesse. La fragilità di un reperto di questo tipo, recuperato dopo 70 anni, si può evidenziare in questa foto. Infatti questo è quello che è rimasto dopo due settimane dal rinvenimento, quindi il tempo proprio materiale per fare gli accertamenti. Un'altra attività importante nell'ambito della subacquea forense sono gli accertamenti tecnici sulle attrezzature legate a un incidente. I primi a ricevere un conferimento di incarico da parte del magistrato per la ricostruzione di un incidente subacqueo sono il medico legale e il perito esperto sul funzionamento delle attrezzature. Questa per esempio è una fase degli accertamenti tecnici sugli erogatori mediante un banco test. Questa invece è una fase delle operazioni peritali che, come descritto dal codice di procedura penale, vengono effettuate alla presenza di avvocati e consulenti tecnici nominati per la difesa delle parti offese e degli indagati. Gli accertamenti vengono effettuati su tutto il materiale interessato all'evento, come le bombole, i compressori utilizzati per la ricarica, i grafici dei computer delle guide e partecipanti all'immersione in esame. Se serve l'apparecchio oppure le attrezzature vengono ricondizionati e provati per quanto più possibile nelle stesse condizioni dell'immersione che ha provocato l'incidente. In alcuni casi la prova dell'apparecchio viene effettuata in camera iperbaica. Tra il 2019 e 2020, attraverso la casa elettrice Diogene, ho pubblicato il libro Angeli Neri, narra la storia e l'evoluzione dei reparti subacquei delle forze di polizia, in particolare il periodo da me vissuto dal 1982 al 2019. E subacquea e subacquea forense, manuale tecnico che utilizzo nei corsi appunto di subacquea forense. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare pubblicamente chi attraverso bellissime recensioni ha dato un valore aggiunto a queste pubblicazioni. L'ammiraglio Andrea Muccedola, laureato ed esperto in scienze marittime della difesa, Pippo Cappellano, giornalista documentarista, regista e autore di documentari, il professore Alessandro Marroni, medico specialista in medicina subacquea e iperbarica, Romano Barluzzi, giornalista scientifico e sportivo e l'avvocato Giovanni Grillo. Insieme abbiamo spesso collaborato in casi legati a procedimenti penali nell'attività forense. Spero di aver trasmesso in modo esauriente, ho avuto un po' di problemi con le slide che si bloccavano. Comunque questo è il mio percorso di 47 anni di attività subacquea e di cui 39 vissuti in ambito professionale. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio nuovamente l'Accademia per questo meraviglioso conferimento. Grazie a te Gianfranco davvero a nome insomma di tutti anche i partecipanti a questa cerimonia. Ti faccio una domanda io, insomma ti faccio portavoce di una domanda ma penso che sia una curiosità un po' legata anche a, che nasce anche da altri. Le investigazioni subacquee, alcuni di queste vengono condotti direttamente sul posto, alcuni rilevamenti vengono fatti direttamente sott'acqua. C'è un motivo particolare ora dico, insomma noi siamo abituati a vedere un po' a CSI il recupero delle prove, cioè delle prove all'interno insomma dei veicoli e di quant'altro, però all'asciutto. Vedo che tante prove vengono fatte anche sott'acqua. C'è qualcosa che viene fatto a posto sott'acqua perché poi dopo si perde, c'è qualche elemento particolare per cui venga, viene fatto direttamente queste, questi rilevamenti sotto? Gli accertamenti descrittivi come misurazioni, numerazioni, schizoplanimetrico, rilievi fotografici sono essenziali così come dettato dall'articolo 354 del codice di procedura penale negli accertamenti urgenti sui luoghi. Questo al fine di portare alla visione del magistrato lo stato effettivo dei luoghi delle cose è elaborare un fascicolo dei rilevi tecnici da depositare nel contesto di un procedimento penale. Il perché alcuni accertamenti vengono effettuati prima di trasferire il reperto fuori dall'acqua è giustificato dal fatto che un cambio di densità e pressione dell'ambiente in cui è stato occultato il reperto, il cambio di salinità, temperatura, possono seriamente alterare elementi probatori come ad esempio un'impronta digitale. Se consideriamo tutte le informazioni che possono essere evidenziate su un'arma da fuoco, elementi merciologici, se l'arma era a contatto con un pantalone, una maglia o una fondina, tracce biologiche come impronte digitali o ematiche se l'autore si è ferito quando ha sparato o nella coltazione. Così come tutti gli elementi di natura balistica, partendo da quelli strutturali dell'arma da fuoco, poi ci sono i bossoli, i proiettili, le cartucce, le particelle che compongono la polvere da sparo come il bario, l'antimonio, il piombo. Insomma, un'arma da fuoco ha davvero tantissime informazioni che devono assolutamente essere messe a disposizione degli organi inquirenti. portandola fuori dall'acqua senza accorgimenti si perderebbe buona parte di utilità di questi elementi. Ti ringrazio veramente Gianfranco, anzi rilancio già da ora il fatto che ti utilizzeremo, penso, uno dei corsi di aggiornamento che come giornalisti anche noi siamo costretti a fare per l'aggiornamento della professione, perché il tuo ruolo, insomma quello che svolto per tanti anni è fondamentale appunto per capire determinate dinamiche. Da lettore sono sempre rimasto un po' perplesso anche da leggere, i miei colleghi che scrivevano, recuperato, subacqueo, morto, le bombole misteriosamente vuote. D'altronde, poveraccio, insomma, era per forza vuote. Quindi insomma c'è questa tendenza dei giornalisti a non sapere quello che avviene e secondo me il tuo ruolo è stato per anni determinante in tanti casi, ma è anche una cosa che secondo me ha bisogno di divulgare maggiormente e insomma penso che sia anche uno dei nostri compiti dell'Accademia, cercare di portare ancora di più le conoscenze dei nostri soci, dei nostri accademici verso il pubblico, il grande pubblico della subacquea, ma anche non della subacquea. Adesso doveva essere con noi un ospite a leggere le motivazioni che era Luca Ward, insomma celebre doppiatore, ha avuto purtroppo una serie di contrattempi nella giornata di oggi, quindi insomma questa voce celebre dal gradiatore sarà per questa cerimonia sostituita da un'altra egregia voce che non deve sfigurare nella lettura e quindi insomma passo la parola al nostro presidente che spero che nel frattempo si sia esercitato come doppiatore appunto per leggere la tua motivazione che ti conferisce appunto il titolo di accademico. Pasquale a te. Beh, mi è facile con Gianfranco perché è figlio dell'Accademia, tutti i nomi che ha citato sono tutti accademici, quindi era proprio conseguenziale che lo diventasse anche lui. Allora, con l'autorità che mi è stata conferita dall'Assemblea in rappresentanza e consiglio direttivo, conferisco il titolo di accademico a Gianfranco Simonini con questa motivazione, quindi Tidente d'Oro, ha avuto il premio Tidente d'Oro nel 2020, categoria attività tecniche, tecnologiche ed iperbariche. Il riconoscimento dei meriti acquisiti durante la sua carriera di investigatore di criminalistica in ambito subacchio, in seno all'arma dei carabinieri, della quale ha fatto parte da 1982. Specializzatosi operatore subacchio presso il comando subacchio ed incursori della Marina Militare, famoso Consubi, in Aspezia nel 1983. Si è distinto in numerose operazioni, quali Scudo del deserto nel 1991 in Kuwait e il resto nel 1993 in Somalia e in attività di consulenza tecnica per la ricostruzione di incidenti subacquei per la procura della Repubblica Italiana e per istituzioni internazionali. Complimenti, benvenuto in Accademia. Benvenuto Gianfranco, insomma facciamo un applauso virtuale tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.